Una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Satriani di Petiglia Policastro e del presso distaccato di Messoraca è stata ricevuta dal presidente facente funzioni della provincia di Crotone, Vincenzo Lagani, dal dirigente del settore edilizia scolastica, architetto Nicola Altes e dal capo di gabinetto Roberto Lumare. Gli studenti hanno richiesto l'incontro per sollecitare un intervento da parte dell'ente intermedio per un adeguamento al servizio trasporto pubblico extraurbano per studenti. In particolare hanno evidenziato l'insufficienza del servizio, i ritardi e la faticenza di alcuni mezzi. La capienza e le norme per il contenimento del contagio da Covid destano preoccupazione nella popolazione scolastica. La problematica è stata infatti sollevata non solo dagli studenti di Petiglia e Messoraca, ma più in generale e in modo diffuso dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici della provincia di Crotone. La suddetta, pur non avendo competenze dirette, essendo il servizio di competenza regionale, ha manifestato attraverso il dirigente del settore la volontà e la disponibilità a farsi portavoce delle problematiche evidenziate dagli studenti ai tavoli tecnici al quali parteciperà. Al riguardo ha informato gli studenti che il 19 novembre prossimo è stata convocata dal prefetto di Crotone e si terrà in videoconferenza una riunione per la condivisione e l'approvazione del piano servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano per studenti. Alla riunione sono stati invitati la Regione Calabria, l'assessore ai trasporti pubblici, ingegnere Tarsia, il presidente facente funzioni della provincia di Crotone, Vincenzo Lagani, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il questore di Crotone, il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, l'ufficio scolastico regionale, le forrovie della Calabria e le atolinee dei Fratelli Romano. In quell'occasione la provincia di Crotone si farà portavoce delle segnalazioni ricevute e delle problematiche sottoposte alla sua attenzione. In conclusione dell'incontro, gli studenti, pur ringraziando i rappresentanti dell'ente intermedio per l'interlocuzione e la disponibilità, hanno confermato che proseguiranno la protesta disertando le aule scolastiche fino alla risoluzione del problema.